... Qui c'è tutto il tema, poi delle bombolette spray nere, qua leggiamo Anzia. Questa era stata ripulita, questa colonna di marmo egiziano che fu ritrovata una ventina d'anni fa proprio da noi, che era dentro incastonata all'interno di questo angolo di palazzo. io vedo proprio il ripetersi di questo colore nero come lo rivediamo adesso sotto al campanile di Santa Chiara questa scritta a bianco salti e come la rivediamo, questa bomboletta nera la scritta sull'antica scacchiera romana che sta sopra il demomanino quindi io ritengo che ci sia probabilmente anche una regia anche alla luce del colorante rosso ritrovato tre giorni fa nella fontana di Monti Oliveto quindi ci sarà una regia io spero che questa vicenda si indaghi in fondo e profondamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti